Un coach Davide Villa, una vittoria che è una bella boccata di ossigeno per Desi dopo quattro sconfitte consecutive, una vittoria d'autorità maturata in un terzo quarto, giocato bene contro la zona di Firenze e con intelligenza direi. Sì, arrivavamo qui effettivamente con un po' di ansia ma comunque con quella sensazione di avere proprio bisogno di un risultato positivo perché ci trascinavamo paradossalmente ancora le scorie della brutta partita persa con i zero punti nell'ultimo quarto con Alto Sebino. Poi in realtà settimana scorsa abbiamo fatto una gran partita contro Orzi però è bello giocare grandi partite ma ci servivano i due punti e siamo contenti di averli fatti come dici tu comunque con una partita abbastanza intelligente. Poi abbiamo come sempre qualche calo, ci abbiamo messo contro la zona di Firenze, ci abbiamo messo forse un paio di minuti iniziali ad assestarci un attimino però in effetti poi siamo stati abbastanza equilibrati. Va detto anche come sempre sei molto condizionato delle percentuali al tiro che grazie a Dio per noi sono state buone quindi quando il tiro da fuori entra è una grossa mano ad attaccare la zona. Ovvio che se ne escono magari due o tre diventa un'altra partita. Ti faccio due nomi, Corno è stato un giocatore che ti ha dato grande energia oggi mi sembra e anche Gallazzi comunque con un paio di rubate, un paio di canessi da tre punti pesanti sotto i due giocatori che secondo me te l'hanno fatta girare la partita. Sì, devo dire che Gallazzi è sicuramente un giocatore per noi fondamentale e va molto con quello che ti dicevamo prima sulle percentuali. È un giocatore che in questo momento è in grande fiducia, è in un grande momento quindi gli riescono bene tante cose. Per noi il salto di qualità che hanno fatto in queste partite noi lo sentiamo proprio, è proprio un giocatore fondamentale per noi. Corno entrando dalla panchina ci ha dato una grossa mano, devo dire che se devo fare forse un altro nome ti direi Gatto che arrivava da qualche partita dove anche lui non era molto in fiducia. Secondo me oggi ha fatto una partita importante sia a livello di numeri che a livello di scelte perché comunque molte volte i sovrannumeri o comunque i tiri liberi li costruiva lui battendo l'uomo, battendo la pressione e l'intensità che comunque Firenze ha messo in campo per gran parte della partita sulla palla. Il fatto che lui riuscisse magari a saltarne fuori ci ha permesso comunque di costruirci dei buoni tiri.